Ciao a tutti e tanto che non vi facciamo vedere un nostro acquisto questo è il grattugia formaggio dell'IKEA io sono sempre scettico un po' sulle cose della cuscina dell'IKEA però pur con scetticismo l'abbiamo comprato poi vi faccio vedere perché è fantastico perché questo grattugia il formaggio in maniera molto efficiente l'abbiamo già grattugiato un po' e quindi non ne rimane quasi niente dentro e quindi c'è poco spreco di formaggio poi a differenza del grattugio formaggio che avevamo prima dove poi rimaneva tutto incastrato dentro e per pulirlo andava svitato e poi dopo un po' ci ammuffiva dentro questo è semplicissimo, basta lavarlo un po' sotto l'acqua vi faccio vedere come si grattugia qui sono un po' imbranato però fa questi bei filini e poi lo grattugia tutto ora siamo un po' anche attaccati come sapete da bambini e quindi con poco formaggio ne viene un sacco grattugiato e sta ancora uscendo poi non è che ne abbia messo tantissimo sono in grandi condizioni fisiche comunque addirittura sta traboccando il grattugino e dentro ce ne rimane pochino uno a limite lo può anche scotere così o con un coltello comunque poi per lavarlo si apre facilmente e si toglie qui volendo uno può continuare cioè non è rimasto praticamente niente non è che nell'altro rimanevano dei pezzi interi che non riusciva a grattugiare invece qui con due pezzettini di formaggio abbiamo riempito un sacco lo metto un attimo sotto l'acqua e poi è pronto per grattugiare di nuovo quindi sorprendentemente il grattugiato formaggio insomma dell'Ikea ha avuto un grande risultato e niente continuate a seguirci iscriviti al nostro canale Rifugio del Funghetto e ci vediamo presto presto